In collaborazione con Rolex, Marco, Cetila, Hosis Technology. Parliamo di sicurezza e la nostra amica Benedetta ha una curiosità, giusto? Ti stimola la motonautica, ti piace la barca? Tantissimo, non saprei come iniziare ad affrontarla, però... Ti ho visto nel magazine televisione Blue Sport che presenti le barca, quindi stai entrando nel prima. Sto entrando pian piano, intanto comincio a presentarle, poi comincerò anche ad approcciarmi. Quindi va bene, insomma. Io volevo appunto portare avanti quello che era il tema che abbiamo anticipato prima della pubblicità con il Presidente, la sicurezza. Volevo dire sì, volevo dire ancora una cosa sulla Superboat per completare il quadro. Quest'anno la barca, oltre ai test che verranno fatti dagli specialisti, dai piloti professionisti, se ne occuperà Alessandro, se ne occuperanno gli altri per rendere la barca, per bilanciarla, per trovare quali sono i sistemi migliori di funzionamento, dopodiché verrà portata in giro su tutti i campi di gara, ma non soltanto sui campi di gara di circuito, anche nelle gare di moto d'acqua, la porteremo a Brindisi, la porteremo dove ci sono gare di offshore, presumibilmente la porteremo a Chioggia, se riusciamo la portiamo anche a Ischia, per fare in modo che tutti coloro i quali si vogliano avvicinare a questa categoria, che vorrei definire trasversale, cioè chiunque può arrivare a partecipare, di tutte le discipline, di moto d'acqua, circuito offshore, chiunque, così come sarebbe bello che tutte le nostre specialità fossero, chiamiamole, intercambiabili fra piloti. E poi alla fine dell'anno verranno costruite queste barche che verranno assegnate con questo criterio, ripeto, tre anni di partecipazione pagando un terzo del costo della barca all'anno, alla fine del terzo anno la barca diventa automaticamente, senza pagare nient'altro, di proprietà del team o del pilota che l'ha utilizzato. Maggiori informazioni sul sito della federazione finconi. Sì, beh, ci sarà un regolamento, cambierà anche il percorso, anche la formula delle gare. Sì, sì, il format agonistico. Pazzo, a proposito di San Felice Circeo, insieme a uno specialista di queste imbarcazioni, che correva negli anni 70, che si chiama Franco Cantando, siamo andati a vedere una piccola baia a fianco al campo di gara dell'offshore, proprio a San Felice Circeo, di fronte a un bellissimo albergo, quindi una fantastica location per fare la gara, e io gli ho chiesto, dimmi, si può correre con il Superbot, sì o no, qui? E lui ha detto, sicuramente sì. Quindi, molto probabilmente, la gara di San Felice Circeo 2019 avrà due eventi. Avrà l'offshore da una parte e la Superbot dall'altra. Credo che un organizzatore locale non possa sperare di più. Queste sono le immagini della gara di esordio dell'offshore di San Felice Circeo. L'offshore, dopo questa gara, andrà a Porto Rotondo a fine maggio, ha cariato i primi di agosto, poi le gare di settembre e ottobre, Como, Chioggia e Ischia, quindi un bel calendario per quanto riguarda l'offshore. Ora prego l'amico Alessandro di indossare il casco. Nel frattempo, vediamo le immagini, ha parlato di Superbot, di sicurezza. Adesso parliamo di un'anomalia, no? Che è stata... Allora, questa è una misura di sicurezza che è stata inventata dalla Federazione Internazionale, che sicuramente noi non adotteremo sulla Superbot, ma neanche per sogno. Anche perché all'inizio sarà una serie nazionale, quindi decidiamo noi. Quando si parla di sicurezza è sempre una cosa positiva, però se la sicurezza può diventare addirittura un aggravio della, diciamo, pericolosità possibile di una gara di motonautica, questo è il sistema migliore per inventarsi queste cose. Allora, questo è un comune erogatore da sub, c'è il primo stadio, quello che va sulla bombola. Ma dov'è che deve andare con questo? Sì, infatti, è una... Un po' complicato. Secondo me è una trappola mortale. La Federazione Internazionale ha deciso che ogni barca, comprese le Formula 4, che sono piccolissime, che hanno una dimensione analoga a questo sedile, alla sedia sulla quale sono, devono portare una bombola da 200 litri o da 200 atmosfere, non ricordo bene, mi sembra 3 litri e mezzo, 200 atmosfere di pressione, e un tubo lungo 3 metri, che non si sa bene dove poter posizionare in barca. Dove poter posizionare in barca. E poi... Cioè, è qui da vedere. Cioè, basta vedere dove si possa metterlo. Teniamo presente una cosa, per quelli che non sanno, probabilmente, tipo quelli che hanno preso questa delibera, che sicuramente è gente che non sa di barche da corsa, e quindi per questa ragione non dovrebbe decidere delle barche da corsa. Una barca da circuito, in particolare, soprattutto le categorie piccole, hanno non solo un abitacolo molto stretto, ma questo abitacolo è irto di ganci e gancetti. Ci sono addirittura gli interruttori per accendere e spegnere il motore, la pompa della benzina, c'è il piantone dello sterzo, ci sono le cinture di sicurezza. Ed è una cosa molto pericolosa creare delle situazioni nelle quali qualcosa si possa, si possa, come dire, incastrare. Se all'interno di una barca, già stretta e con tanti appigli in negativo, uno posiziona, qualcuno mette un regolamento obbligatorio dove bisogna mettere un tubo lungo tre metri, così, bombola, erogatore, tutto il resto, pensando che questo serva per aumentare la sicurezza, significa creargli veramente una trappola mortale. Chi fa queste cose è un irresponsabile o un totale incompleto. Sì, ma poi anche la lunghezza del video, ma anche l'erogatore come fa? No, ma poi, tra l'altro, ecco qua, qui sarebbe bello farlo vedere di persona. No, dopo, dopo. Ecco, lo vediamo dopo. Sarebbe bello di persona poterlo far vedere. Questo erogatore va inserito all'interno del casco integrale e non c'è assolutamente posto per farlo inserire. tutto questo a testa in giù perché evidentemente il pilota si mette a respirare con l'erogatore durante l'incidente. Quindi a testa in giù nel buio più totale perché forse questi signori non sanno che quando la barca è ribaltata il pilota si trova nel buio più assoluto. Lo so, lo so. Tu lo sai ma perché sei salito in barca? Quelli che fanno questi regolamenti in barca si vede che non ci sono mai saliti e quindi queste cose non le sanno. Deve cercare questo erogatore, deve metterselo in bocca, cosa molto difficile da fare con il casco dopodiché si deve allontanare secondo le loro idee dalla barca portandosi dietro a questo tubo che si chiama frusta in gergo subacqueo che si potrà incastrare dappertutto. Agganciare anche al collo. Ma dappertutto ma si può, ripeto, nel piantone del volante nelle cinture di sicurezza in tutti i quegli... E voi come federazione non adotterete questa? Sicuramente nelle nostre imbarcazioni di campionato italiano se qualcuno si presenta con questa roba qua andrò io personalmente a lanciargli alla inacqua. Se solamente... È un invito importante. Nelle gare internazionali stiamo valutando. Noi chiederemo sicuramente comunque, e concludo, ad aziende che si occupano di queste cose e a degli esperti di darci il loro parere qualificato su come... sull'applicazione di questo sistema che cosa può comportare. tutto bene. Grazie Presidente di questa... diciamo... non so se chiamare la mancanza o... No, è una... come dire... è una... evidenziare che quando la sicurezza viene fatta male diventa pericolo mortale. Attenzione. Quando la sicurezza viene concepita con delle cose sbagliate il pericolo se esiste diventa... se c'è un pericolo diventa pericolosissimo. Perché questo non è il messaggio che vogliamo dare. Noi facciamo tanto per i giovani, fa la federazione tanto per i giovani. Nella prima parte Alessandro hai parlato delle scuole federali. Diciamo che è un progetto che sta andando avanti molto bene. Sì, sicuramente. L'impegno degli ultimi anni del presidente della commissione giovanile Schiano sta avendo frutti. Ci sono tanti ragazzi che si stanno avvicinando a questo sport. Ci auguriamo che questi ragazzi poi prenderanno il nostro posto da campioni. Insomma, tu hai vinto cinque titoli mondiali speriamo che ne vinci ancora giovani. Speriamo che si può correre fino a 65 anni. Speriamo che riuscirà... Faremo un'interiore deroga. Arriviamo fino a 70 anni. Quindi hai leone della tastiera che sono quelli i nostri coetanei e leone della tastiera quelli che sono buoni solo a criticare a scrivere sui social ai nostri tempi. Ma quelli non li leggiamo neanche. Però no, stavo dicendo che quest'anno c'è anche un campionato match race c'è anche un campionato Sì, è vero. Sì, c'è questo nuovo campionato sono due barche in seguimento con un equipaggio con due piloti e ci sarà anche questo tipo di campionato. Palermo la chiusura a Ischia sono tre tanti. Palermo l'altra mi sembra che sia San Nazaro e poi dopo la chiusura so che a Ischia un grande evento anche il match race quindi ci mancava e poi c'è un match race anche giovanile da quest'anno un match race giovanile che viene fatto con le due imbarcazioni Formula 4 costruite dalla Federazione Italiana Motonautica e data in gestione è data in gestione alla commissione giovanile con la quale due giovani piloti potranno partecipare alle gare del campionato italiano se verrà istituito se ci saranno i numeri per fare il campionato italiano e sicuramente alle prove mondiali per esempio la gara di Barchis di Formula 4 e eventualmente se il budget della commissione sarà capiente poter partecipare a qualche altra gara internazionale che si svolga diciamo in paesi vicini all'Italia confinanti con l'Italia Segretario si parla sempre di budget poi alla fine il discorso arriva sempre a lei e lei che il signor no prima l'ha chiamato il presidente lei che taglia che cuce che deve eh la federazione non è tante anima ma tante discipline dall'off show il circuito parche storiche raccomandate radio raccomandate noi raccomandate dell'ufficio postale radio che è una delle discipline dove l'Italia domina in assoluto lo ricordiamo sempre la federazione italiana motonautica vince ogni anno il 60-70% dei titoli a livello mondiale sono vinti da piloti italiani in Italia si fa il 50-60% delle gare a livello mondiale si fa in Italia grazie a una federazione gestita ottimamente dal presidente Iaconianni troppo buono che ci ha appunto presentato le grandi novità 2018 e dal punto di vista economico dal segretario quanto è difficile? eh non è facile perché comunque l'ambiente della motonautica è un ambiente molto vitale ognuno apporta tante iniziative belle tutte molte delle quali lodevoli che avrebbero anche il diciamo avrebbero meriterebbero il sostegno economico purtroppo dobbiamo fare un po' dei tagli e vedere quelle che sono le disponibilità nostre e applicarle poi nella realtà che ricordiamo è di uno sport che non è tra i più economici da svolgere però sta diventando molto più accessibile rispetto agli anni passati grazie anche a nuove all'introduzione di nuove discipline queste sono le imbarcazioni endurance o offshore avi come verrà chiamata la nuova disciplina ma anche nelle moto d'acqua avete fatto un accordo con delle case costruttrici prenderete 10 moto d'acqua nuove stamattina abbiamo firmato l'accordo per un mutuo con il credito sportivo che ringraziamo per averci coadiuvato per aver abbracciato in pieno questo progetto delle moto spark dell'attività giovanile di moto d'acqua compreremo 10 moto da destinare al campionato italiano di moto d'acqua per i ragazzi che vanno dai 14 anni fino ai 18 anni sono moto di serie quindi sono moto di serie da 60 cavalli molto semplici da utilizzare sulla quale faremo comunque una piccola modifica perché fidarsi è bene e non fidarsi è meglio le moto riducendo la potenza no no la potenza rimane quella ma prima di essere consegnate verrà verrà tolta la centralina elettronica verrà creato uno sportellino per accedere facilmente a questa centralina e così come avverrà nella super botte la centralina la centralina che verrà usata in gara sarà la centralina della federazione quindi in teoria chi corre con la super botte chi corre con la spark potrà lasciare a casa la centralina che usa per provare per allenarsi e tutto il resto perché tanto quando arriva sul campo di gara la centralina che dovrà usare sarà quella la centralina elettronica sarà quella di proprietà della federazione che verrà assegnata a estrazione e poi finita la gara verrà restituita la federazione la riporterà non ci saranno problemi di diciamo di truccare di mani la centralina elettronica nei motori 2018 per intenderci quindi i motori moderni è tutto se si controlla la centralina elettronica si controlla il funzionamento della barca mi spiegano i tecnici che paradossalmente puoi fare quello che vuoi sul motore ma tanto se la centralina non è omologata diciamo non funziona in modo omogeneo con il motore non risolvi niente noi vogliamo controllare le centraline per ottenere due cose la prima che ci sia veramente parità di mezzo per rendere questo sport molto più atletico che meccanico e seconda cosa il controllo delle centraline ci consente di controllare e tenere sotto controllo i costi perché nella natura umana del pilota del suo meccanico del suo preparatore cercare di spremere dei cavalli per vincere e i cavalli sono sempre nello sport nello sport motoristico i cavalli sono sempre molti soldi spesso buttati in effetti a volte si cerca la velocità e invece di cercare soluzioni ottimali che avvicinano sempre di più la gente quando uno sport motoristico perde il controllo economico di una o di più categorie quelle categorie sono destinate a finire perché la gente smette oppure ne restano i pochi che si possono permettere di pagare queste cifre importanti e quando in una categoria ci sono tre o quattro piloti e invece all'inizio ce ne erano quindici vuol dire che la categoria è fallita e noi soprattutto perché ci stiamo mettendo del denaro pubblico dobbiamo fare in modo che la prima cosa da tenere sotto controllo è il costo naturalmente subito dopo l'altra cosa più importante che è la sicurezza grazie presidente vediamo le immagini delle moto d'acqua abbiamo visto anche l'Hidrofly segretario abbiamo il campionato italiano moto d'acqua iniziato a Bacoli scorsa fine settimana poi lo ricordiamo a Caorle a fine maggio poi a Brindisi abbiamo visto riconfermata la gara il primo weekend di luglio Milano il 22 di luglio e Santa Severa il campionato italiano moto d'acqua queste sono le immagini dell'anno scorso ma c'è anche l'Hidrofly che abbiamo visto che è l'evoluzione questa macchina che vola no? sì quello che diciamo il nominativo Hydrofly è basato poi sul brevetto del Flyboard che è una diciamo un'attrezzatura che si collega alla moto d'acqua e che grazie a una spinta propulsiva dell'idrogetto vediamo Franchi Zapatà questo grande pilota di moto d'acqua francese che ha inventato questo consente delle evoluzioni particolari e molto spettacolari volevo ricordare la federazione motonautica anche in questo caso è la prima al mondo che fa un campionato nazionale nessun altro lo sta facendo questa è l'evoluzione bello spettacolo questo è molto bello abbiamo avuto un successo strepitoso l'anno scorso a Brindisi tra l'altro una gara in notturna di cui abbiamo visto qualche immagine anche qualche frame precedente molto spettacolare molto bella che ha tratto tantissimo il pubblico quest'anno ci ripetiamo con due gare una a Polignano Mare che ci è già stata nell'ambito anche del novantesimo anniversario della nascita di Domenico Modugno Polignano Mare organizza una serie di eventi tra cui una gara di campionato italiano Idrofly e l'altra si svolgerà a Brindisi ormai campo di gara consolidato per la multicategoria insomma perché in effetti dentro il porto di la città vecchia vedete queste immagini qui dentro è un palcoscenico naturale Guido Cappellini che si intende non solo di barche ma anche di campi di gara quando è venuto ad assistere a una gara due anni fa o tre anni fa mi ha detto che secondo lui Guido Cappellini dieci volte campionato del mondo ha corso per 30 anni di Formula 1 ha girato tutto il mondo ha corso anche negli Stati Uniti quindi pochi come lui conoscono i campi di gara mondiali mi ha detto questo è il più bel campo di gara del mondo se pensiamo che fino a cinque anni fa neanche il sindaco di Brindisi sapeva di avere a disposizione cioè erano seduti su dal nostro punto di vista una miniera d'oro che non e nessuno aveva mai pensato di scavare ha dovuto pensarci come una miniera d'oro presidente è l'idroscalo di Milano che in effetti è nato per gli alianti nei tempi del fascismo e ora è un grande parco acquatico a Milano che è l'idroscalo è una struttura straordinaria che è stata valorizzata in questi anni dal punto di vista diciamo di tutto quello che c'è intorno è un centro multisportivo perché ci fanno di tutto all'idroscalo sono molto contento che venga concesso anche a noi e noi siamo attentissimi perché un paradiso simile venga adeguatamente preservato con i nostri mezzi che vorrei ricordare sono quanto di più ecologico esista negli sport motoristici nell'immaginario collettivo la gente pensa che siamo degli inquinatori invece non è così c'è la famosa diciamo il parco dei cetacei che ci limita un po' dove non si possono fare barche da corsa però passano 50 petroliere al giorno e questa è una delle contraddizioni mondiali le citazioni militari si, si, luri fan di tutto ma gli unici che disturbano i cetacei sono magari i dieci ragazzi che fanno le moto d'acqua questo questo vabbè non credo che sia l'unica cosa che i governi sbagliano in questo mondo è il parco dei cetacei che lo ricordiamo che parte da Anzedonia e arriva fino alla costa azzurra passando per tutto Marligolo e Martirreno il nord della Sardegna dove non si possono fare gare poi succede di tutto però non si può gareggiare questa possono passare teoricamente 50 motoscaffi veloci con motori ancora più grandi dell'offshore e possono andare avanti e indietro tutto il giorno e non c'è nessun divieto però ripeto se noi mettiamo giù due boe e dieci moto d'acqua ci arrestano è già successo alla Spezia all'isola d'Elba a Via Regio non si può più gareggiare questa è una grave lacuna e mancanza diciamo dal punto di vista legislativo siamo quasi in chiusura Alessandro la stagione invece per te deve ancora partire Giugno sì siamo carichissimi ci stiamo allenando abbiamo provato la barca nuova perché abbiamo fatto delle modifiche quindi stiamo testando sono arrivate anche delle liche nuove quindi insomma dobbiamo difendere il titolo quindi dobbiamo prepararci dobbiamo essere pronti ne hai già 25 quindi quale vuoi vincere quest'anno l'obiettivo di quest'anno sarebbe quello di riconfermarmi nella 350 perché sarebbe il quinto titolo della categoria e diventerei in assoluto il pilota più titolato e poi il tuo miglior concorrente è poi il tuo fratello fratello sì quest'anno però purtroppo dovrà prendersi un anno di pausa però insomma abbiamo tanti piloti che sono agguerriti in Italia e anche all'estero perché c'ho Claudio Fanzini che sicuramente mi darà filo da torce che ha vinto l'anno scorso che ha vinto l'anno scorso la 250 ma comunque si è arrivato secondo la 350 quindi siamo ce la giochiamo in Italia però anche qualche outsider straniero c'è segretario siamo in chiusura un saluto agli amici un invito un invito a vedere tutte le gare di motonautica in tutte le sue forme le specialità perché sono degli spettacoli veramente coinvolgenti e sempre più appassionanti lei ha detto un invito a vedere le gare in television il presidente ha parlato di spendere poco vi siete cambiati ruolo nel senso che ho detto il suo retro pensiero divertitevi o spendete poco divertitevi divertiamoci in economia ho pure seguito Fim Power Botti il magazine della federazione italiana motonautica ve lo ricordiamo la federazione italiana motonautica è l'unica credo tra le tutte le federazioni sportive che segue tutte le gare delle proprie categorie fa vedere tutte le discipline le fa vedere in televisione con degli spazi televisivi che appunto noi di sport seguiamo Fim Power Botti è il magazine televisione della federazione quindi spazio a tutte le discipline è una stagione che è iniziata la scorsa settimana che va avanti fino a ottobre maggiori informazioni sul sito finconi.it oppure telefonare in orario d'ufficio 0276.31 siamo in chiusura ti è piaciuta questa puntata ben? interessantissima interessantissima avrei avuto anche delle domande da fare ma purtroppo una sola non si può non la puoi fare va bene è troppo stretto vediamo settimana prossima grazie a voi per averci seguito noi ci rivediamo settimana prossima stessa ora stessa frequenza sempre con Sportador TV la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo puntata questa tutta dedicata alla motonautica grazie al presidente Iaconiani grazie a voi a Alessandro Cremona cinque volte il campione del mondo e al segretario della federazione Alessandro Basilico è la nostra benedetta ciao e alla prossima occasione alla prossima ciao questo orologio ha visto momenti che svaniscono in un attimo e momenti che restano impressi per sempre ha visto le peggiori condizioni e le migliori prestazioni ma solo a posteriori ci si rende conto che proprio in quei momenti si stava scrivendo la storia della vela non segna solo l'ora segna la storia toio adrenalina addicted quando il gioco si fa duro e per le sfide di ogni giorno c'è Cetilar doppia forza al tuo massaggio il massaggio con il nuovo Cetilar aiuta a ridurre il dolore articolare osis technology nei nostri tube scorre passione sabice fatti di sport dal 19 al 23 giugno la spezia ospita la sesta edizione di Sea Future un evento internazionale con i più importanti operatori dell'industria navale della nautica e della difesa 5 giorni di eventi 9000 metri quadri di spazio espositivo 30 marine militari estere presenti 300 espositori 1000 B2B un'opportunità di business unica in Italia dal 19 al 23 giugno nell'arsenale della marina militare italiana alla spezia GFN Gibellato in collaborazione con Rolex Toyo Adrenaline Addicted Osis Technology Cetilar